BECAUSE YOU TOO IT'S MEDETESCHIO MAN Finalmente una persona intelligente Dici davvero? I miei sensi di ragno stanno cagando C'è qualcosa che non va In questo cielo E questa cos'è? Signor J. Jonah J. Se vuole il più sensazionale vizio dell'anno Si faccia trovare alla discoteca Mark Rini a mezzanotte La porta sarà a porta Ci venga solo Firmato Dottor Pesce 12 o'clock midnight Oh Parker è venuto a far visita al suo capo Nooo Ve la farò cagare Voglio scoparlo Io l'ho scoperto Parola di J. Jonah J. Sì 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 Sì